Sulla destra sulla destra di qua lì dell'albero dietro i bidoni ma sul lato destro è libero qua di là è libero li senti dove sono? è proprio più sentito ok occhio Luca sono dietro di te ok va fuori quella? dove sono? dove sono? che non li vedo? in mezzo agli alberi sulla sinistra in mezzo agli alberi vai 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 c'è solo lei dove dove sinistra in mezzo agli alberi dietro la copertura verde in mezzo agli alberi è libero suona dove è andato? dove è andato? è andato via di là dove è la bandiera? è lì non è quella come no? e che cazzo è quella? perché? perché non è quella lì? e di che cazzo è quella bandiera lì? c'è qualcuno qua non so dove ma la nostra è scoperta ricarica aspetta vai vai ok l'ho vista sulla destra ma è laggiù in fondo di qua? in mezzo della moscaglia è nel mezzo dove cazzo è la bandiera? ma l'ho suonata tre volte madonna si è suonata suonala ma quale cazzo è? è qua qua davanti a me devo ricaricare vai ti copro grazie mille ok ci sono vai grandi grande ma quella che ma cos'era quella? è l'esca? no no quella lì aveva detto ai ragazzi la macchina bianca gliela fai a puà abbiamo il sole in faccia bene è che di qua c'è il sole in faccia adesso scambiamo da da la macchina con la macchina è pronto controllo dalle Grazie.